Ben trovati ad una nuova edizione dello speciale TGT dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Durante l'ultima seduta dell'aula di Palazzo Pegaso l'organo legislativo regionale è stato chiamato a discutere del piano dei rifiuti. La giunta infatti con un'informativa si è rivolta all'aula offrendo i particolari. Sentiamo. Rifiuti zero, impianti mille. Prendendo a prestito uno slogan di legambiente, l'assessore all'ambiente della regione toscana Monia Monni ha riferito al Consiglio sugli esiti dell'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a realizzare impianti e ha ribadito il pensiero della giunta. Centrare l'obiettivo del 10% di conferimento in discarica non è possibile se alla prevenzione e alla riduzione di produzione dei rifiuti non si affiancano impianti di riciclo e riuso. Le proposte arrivate sono state in tutto 39, di queste sono state ritenute pienamente rispondenti ai requisiti previsti 32. Durante il dibattito in aula sono emersi i dubbi e le perplessità di alcuni consiglieri. La valutazione del piano è negativa perché è un piano che demanda ai privati le iniziative che dovrebbe prendere la regione, soprattutto nell'idea di un riciclo e un riuso della materia. Ma soprattutto si parte da una concezione ormai vecchia che è quello che tratta i rifiuti a valle, quando a nostro avviso dovremmo pensare a produrre meno rifiuti. Fermo restando che di tutte le proposte arrivate la gran parte sono impianti di trattamento fondati su concezioni che in pratica sono degli inceneritori mascherati. Il consigliere del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli, parlando di piano innovativo, nel merito e nel metodo, ha commentato come in presenza di dibattiti di un certo spessore si possa apprezzare la bellezza della democrazia caratterizzata da opinioni diverse e varie. Dobbiamo far sì che questi impianti siano collocati un po' su tutto il territorio della Toscana in maniera tale che si risponda a quel criterio di autosufficienza dei territori e degli ambiti che anche essi noi avevamo chiesti. Per due motivi, perché c'è un bilancio ambientale da rispettare e i rifiuti con più vanno in giro, vengono trasportati e più questo bilancio non è ambientalmente sostenibile. L'altro aspetto è che dobbiamo evitare che ci sia una Toscana che produce rifiuti e una parte della Toscana invece che li smaltisce. Auspichiamo che il piano dell'economia circolare non sia più un piano di rifiuti ma nel contempo diventa un piano industriale dell'energia toscana, un progetto che possa produrre innovazione, vantaggi per i cittadini toscani, vantaggi per le imprese, possa ridurre le tariffe dove a livello regionale ci sia un'unica grande cabina di regia e dove la trasparenza, la partecipazione e il Consiglio regionale siano protagonisti delle scelte insieme alle comunità locali, insieme alle associazioni, insieme alle imprese. Un disegno nuovo di una Toscana che cambia ma che nel contempo vuole essere green ma che crea occupazione e lavoro partendo da quello che ha al proprio interno. Non pienamente convinta dei contenuti della comunicazione, Elisa Tozzi, consigliera del gruppo misto Toscana Domani. Noi abbiamo tre ambiti territoriali. Ad oggi gli ambiti territoriali definiscono i fabbisogni, quindi noi dobbiamo stare molto bene attenti a calibrare esattamente gli impianti dove c'è bisogno. Tanto per intendersi è inutile fare 100 impianti sulla costa quando nel capoluogo e su Firenze ad oggi noi scontiamo la mancanza, primo tra tutti, di un termovalorizzatore, che sappiamo tutti quanti che tipo di decisione ha subito, però nella parte ferentina, sulla piana e sul capoluogo è impensabile che non ci siano degli impianti adeguati e moderni. Per il consigliere Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Commissione Ambiente, nella comunicazione ci sono tanti intenti e poca sostanza. Avevamo già denunciato lo scorso febbraio che fare una discussione in assenza dell'esito del bando che si è chiuso il 31 marzo dopo due proroghe avrebbe avuto poco significato. Ci dissero che sbagliavamo, ma oggi l'assessore torna a darci il resoconto non troppo dettagliato di quel bando che ha visto la presentazione di ben 39 progetti, che significa evidentemente che in Toscana c'è voglia, ma soprattutto c'è bisogno di impianti, perché le tariffe stanno toccando livelli altissimi, i comparti produttivi sono in difficoltà, i cittadini non riescono più a star dietro agli aumenti dell'Atari. Purtroppo, soprattutto chi ci rimette di più sono le nuove generazioni, perché continuiamo in Toscana a sotterrare ben il 34% dei rifiuti in discarica, perché questa sinistra non è stata in grado di dare alla regione, a una delle regioni più importanti del mondo, un piano dei rifiuti degno di questo nome. Secondo Marco Landi della Lega, il lavoro fatto fino ad oggi ha portato a manifestazioni di interesse, con una Toscana in ritardo sulla pianificazione dei rifiuti, che nasce dalla legge 69, a suo dire totalmente da rifare. Dopo anni in cui si parla di rifare il piano dei rifiuti, si arriva a fare una manifestazione di interesse e quindi chiedere ai privati, perché ci si trova con l'acqua alla gola per risolvere un problema. Ma in realtà questo non è un buon procedimento. Non è un buon procedimento a nostro avviso, perché così come quando furono definiti gli ambiti territoriali e quindi leato, si tracciò le treato sulla mappa della Toscana senza tener conto né della popolazione né dei rifiuti prodotti. E anche in questo caso, facendo questa manifestazione di interesse, cioè chiedendo ai privati se sono interessati a gestire degli impianti di rifiuti e dove, è chiaro che si viene meno a valutare correttamente che cosa serve in Toscana. L'organo legislativo regionale ha approvato anche una legge che riguarda l'olioturismo, ovvero il turismo sulla scia di quello che viene definito enoturismo per il vino, che riguarda l'olio. Un vero e proprio oro verde per la nostra regione. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato con 20 voti a favore, 8 astenuti e i due voti contrari del Movimento 5 Stelle, la legge che disciplina l'olioturismo e l'ospitalità agrituristica per adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali che stendono all'olioturismo quanto già previsto per l'enoturismo. Durante il dibattito, la Presidente della Commissione Territorio Ambiente, Lucia De Robertis, ha sottolineato come alla luce del mutato contesto generale, caratterizzato da una pandemia che ha modificato profondamente anche la domanda di ospitalità, si è cresciuta l'esigenza di spazi aperti, rendendo quindi utile favorire un miglioramento dell'offerta da parte degli agriturismi. Abbiamo di fatto dato la possibilità alle strutture di spostare dei volumi però all'interno dello stesso comune e in aree contigue alla propria attività. Crediamo che questo sia un buon compromesso, motivo per il quale non abbiamo approvato, quindi è stata respinta la proposta di legge presentata dalla Lega che invece prevedeva un aumento volumetrico del 30% o nello stesso comune addirittura in altri comuni. Per noi questo diventa assolutamente inaccettabile, si rischia una giungla di edifici all'interno di un passaggio straordinario. Invece con la proposta d'ordine che è stata passata diamo l'opportunità a queste strutture che tanto hanno avuto successo durante il periodo della pandemia, di dare una risposta qualificata aumentando nella possibilità sia ricettive che di possibilità di espansione dei propri edifici. Ci sono alcune limitazioni dal punto di vista delle norme che non rendono facilissima l'attività per gli agriturismo, laddove si tratta soprattutto di ristrutturazioni di ambienti esistenti e anche di ambienti che ricadono magari con le aziende molto grandi e molto estese su territori limitrofi in comuni diversi. Quindi si è cercato naturalmente di semplificare e dall'altra parte anche di spingere l'olioturismo, l'enoturismo, cioè tutte quelle attività collaterali e le produzioni agricole più pregiate della regione toscana che garantiscono flussi turistici ma un turismo lento che approfondisce, che staziona anche nella campagna bellissima toscana e che va a visitare le città d'arte. Noi ci siamo astenuti perché comunque non ravvediamo nella legge alcuni caratteri di legittimità e ovviamente abbiamo cercato di renderla tale con un emendamento in particolare all'articolo 7 che poi era sostanzialmente la nostra proposta di legge che constava solo di un articolo e che partiva da un presupposto, il presupposto che l'agricoltura è in crisi, il delta di guadagno per un agricoltore tra ciò che spende e ciò che incassa è veramente risibile per cui l'attività agrituristica collegata all'attività agricola era sicuramente un qualche cosa da fare e da svolgere. L'Aula ha approvato il bilancio preventivo 2022 e il pluriennale 2022-2024 del Consorzio Lamma, il servizio meteorologico della Toscana. Parere favorevole dell'Aula di Palazzo del Pegaso sul bilancio preventivo 2022 e pluriennale 2022-2024 del Consorzio Lamma, servizio meteorologico della Toscana con 19 voti a favore e 9 astenuti. Come illustrato dalla Presidente della Commissione Ambiente e Territorio Lucia De Robertis, per il 2022 il valore della produzione del Consorzio si assesta su 4.783.000 euro, quasi il 5% in più rispetto al 2021. La previsione dei contributi con esclusivo riferimento alla competenza 2022 è suddivisa tra contributi regionali per l'attuazione del piano di attività pari a 288.339 euro, contributi regione per funzionamento 2 milioni di euro, costanti negli anni, contributi da altri soggetti pubblici, per euro 1.891.000 circa, tra cui quello del socio CNR in termini di locali messi a disposizione e personale assegnato. È un istituto ormai importante, tanto importante per la regione toscana, per i servizi che fa, per la qualità dei servizi che offre, che ne beneficiano molti comuni, l'amministrazione, la regione stessa in questo caso, ma che è conosciuto dai più per l'attendibilità delle previsioni meteorologiche che forse tutti guardano, dai turisti agli agricoltori, alle persone che lavorano, quindi per noi un consorzio, ricordiamo che c'è dietro il CNR, quindi dal punto di vista tecnico, tecnologico è assolutamente l'avanguardia, un consorzio sempre da sostenere, se possibile anche implementare dal punto di vista del contributo per far sì che le tecnologie siano sempre più all'altezza. I ricavi commerciali per oltre 89.000 euro sono rappresentati da contratti con autostrade per servizio meteo, consorzio di bonifica 3, osservatorio europeo australe. Tra i ricavi vanno segnalati i costi sterilizzati per contributi agli investimenti. I costi della produzione ammontano oltre 4.671.000 euro, il 5,5% in più sul previsionale 2021 tra acquisti di materiali per uffici e servizi ordinari e straordinari del consorzio. Il costo del personale è pari a 1.539.349 euro. In seguito alle nuove funzioni e compiti istituzionali assegnate all'AM con legge regionale del 2016, era iniziato un processo di incremento della dotazione organica che ha subito un arresto a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale del 2018, riferita però all'autorità portuale regionale. Per il 2022 il valore della produzione del consorzio si assesta su 4.783.193 euro, quasi il 5% in più rispetto al 2021. Nel corso del dibattito il vicepresidente Alessandro Capecchi, parlando di buon operato del consorzio LAM, ha ricordato la mozione respinta in commissione proposta dal consigliere Vittorio Fantozzi in merito alla promozione dei servizi meteorologici dello stesso consorzio. In una regione ricca di turismo come la nostra è importantissimo avere previsioni meteorologiche assolutamente attendibili, addirittura avevamo chiesto, purtroppo la mozione ci è stata respinta dalla maggioranza, avevamo chiesto di stanziare più risorse per una migliore e più efficace comunicazione da parte dell'AM attraverso soprattutto i social, perché conoscere oggi in tempo reale le previsioni del tempo, soprattutto in montagna ma anche al mare, aiuta tantissimo il turismo perché ci sono tante offerte low cost, tante offerte last minute che in qualche modo influenzano le presenze sia in montagna che al mare. In più non ci scordiamo l'attività che l'AMMA fa sia sotto il profilo oceanografico di ricerca e soprattutto nei casi di protezione civile. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha rilasciato una dichiarazione in merito alle polemiche che sono arrivate dall'opposizione riguardo alla mancata calendarizzazione di una seduta dedicata all'attività della commissione di inchiesta sulle infiltrazioni mafiose. Sentiamo. Dobbiamo avere un obiettivo primario tutti, dare risposte ai cittadini che su questo tema fanno bene a chiedere e a volerle. Certo mi dispiace la continua polemica politica, guardate, poi ve li lascio e li metto a vostra disposizione. La prima volta ho chiesto di calendarizzare il 30 di marzo la discussione sul chevo, poi per altre tre volte, vi lascio questi fogli in modo che possiate leggerli anche voi e i cittadini che ci seguono a casa. Tre volte su quattro la minoranza, i firmatari di quella lettera che oggi è uscita sui giornali mi chiedono di non metterla in discussione e oggi la richiesta di un consiglio speciale. Io chiedo solamente una cosa, che tra quello che si discute e si fa nella capigruppo e in aula e quello che si racconta alla stampa ci sia coerenza e si dica la verità ai cittadini e ai cittadini della Toscana. Io sono sempre stato disponibile a calendarizzarla, sono pronto a calendarizzarla quando servirà, ma evitiamo strumentalizzazioni che non servono a nulla e che non fanno nient'altro che allontanare i cittadini dalle istituzioni. Ed è tutto anche per questa edizione dello speciale TGT. L'informazione sul Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana. Grazie. Grazie.